Il solo appuntamento in programma domenica 23 luglio è la messa per la giornata mondiale dei nonni e degli anziani nella Basilica di San Pietro. Lo si apprende dal calendario delle celebrazioni liturgiche presedute dal Pontefice diffuso dalla Sala Stampa Vaticana. Il Papa presiderà la liturgia eucaristica nella terza giornata mondiale dei nonni e degli anziani istituita dallo stesso Bergoglio che inizierà alle 10. Il tema di questo terzo appuntamento di generazione in generazione e la sua misericordia si lega a quello della giornata mondiale della gioventù. Maria si alzò e andò in fretta a suggellare la forza dell'alleanza tra giovani ed anziani che si svolgerà a Lisbona dal 1 al 6 agosto, confermata la presenza di Papa Francesco che sarà nella capitale portoghese dal 2 al 6 agosto. L'altro viaggio internazionale previsto in agenda è in Mongolia, dove il Pontefice si recherà dal 31 agosto al 4 settembre. Sarà il primo vescovo di Roma a visitare il paese asiatico, cerniera tra Russia e Cina, dove la comunità cattolica conta quasi 1500 battezzati.